Siamo con Roberto Massolino dell'azienda Massolino, chiaramente siamo in un crew molto importante del Barolo che identifica molto strettamente l'azienda di famiglia. Siamo in Vigna Rionda. Ecco Roberto vorrei chiederti come è nata un po' la vostra presenza in questo fazzoletto di terra. Allora, la mia famiglia è sempre stata molto attenta e sempre desiderosa di acquisire degli appezzamenti importanti nel nostro comune di Seralunga. E Vigna Rionda è sicuramente tra i crew più importanti del nostro paese. E mio papà, mio zio e mio nonno avevano ben in testa questa cosa e volevano a tutti i costi un pezzo di Vigna Rionda. A dire il vero, in quegli anni il valore dei vigneti era un valore irrisorio se lo confrontiamo a quelli di oggi. Ma devo anche dire che le famiglie contadine di quegli anni erano anche famiglie che arrivavano a fine del mese perché si era in azienda agricola, quindi si aveva le galline, si aveva i polli, si aveva tutto l'occorrente. Ma le risorse economiche erano abbastanza scarseggianti. E quel poco che valevano le vigne era poco, ma era troppo per le tasche delle nostre famiglie contadine. E diciamo che però hanno ideato uno stratagemme per arrivare ad avere un pezzo di Vigna Rionda. Alla fine degli anni 50 diciamo che hanno deciso, hanno provato a fare un baratto con una vigna che c'era da un'altra parte, una vigna un po' più pianeggiante, un po' più produttiva come quantità di uva per ettaro e hanno deciso di provare a scambiarla con un pezzo di Vigna Rionda. Il vecchio proprietario attratto da una maggiore facilità di coltivazione, da una maggiore resa per ettaro, ha accettato e noi con questo stratagemma astuto siamo entrati a far parte di un piccolo appezzamento di Vigna Rionda. E poi di lì, mano a mano, la mia famiglia con grandi sacrifici è arrivata ad avere ad oggi quasi tre ettari di questo fantastico crew. Che per noi è, diciamo che è la punti di diamante della nostra azienda, è il credo assoluto della nostra azienda, dei nostri baroli. La nostra azienda si chiama addirittura azienda agricola Vigna Rionda, appunto perché siamo veramente legati a questa zona, che è una zona, devo dire, per noi unica, perché secondo noi col giusto affinamento in questa zona si ottengono dei baroli che coniugano la potenza di Serralunga a un'eleganza, veramente, a una raffinatezza che solo pochi miei riescono a donare al bicchiere. Grazie mille Roberto e buon lavoro. Grazie.